Un insider di Palace ha fornito un simpatico spaccato del funzionamento interno del matrimonio tra il principe William e Kate, la principessa del Galles. Kate, principessa del Galles, tratta il principe William come il quarto figlio, secondo una fonte che ha lavorato con loro a Kensington Palace. Kate e William hanno tre adorabili figli, il principe George, 9, la principessa Charlotte, 8, e il principe Louis, 5. La simpatica dinamica familiare del Galles ha conquistato i cuori della nazione. I sondaggi lo dimostrano costantemente. In effetti, un recente sondaggio condotto su 4000 britannici ha rilevato che il principe e la principessa del Galles sono i membri più popolari della famiglia reale. Tuttavia, come tutti i matrimoni, quello di Kate e William non è perfetto, ma sanno come farlo funzionare, ha rivelato un insider di Palace. Parlando in esclusiva a Express.co.uk, Tom Quinn, autore di Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family, ha condiviso le conversazioni che ha avuto con una fonte che ha lavorato a stretto contatto con William e Kate a Kensington Palace. Kate lo tratta, William, come il quarto figlio perché incline ai capricci, ha detto la fonte a Quinn. Secondo la fonte, Kate sa anche esattamente come fermare l'escalation delle discussioni. Quinn ha spiegato. Hanno litigi. Non è un matrimonio perfetto. Hanno litigi fantastici. L'autore reale ha continuato. Ma, dove alcune coppie litigano, e si lanciano vasi pesanti l'un l'altro, William e Kate, si lanciano cuscini l'un l'altro. È sempre tenuto sotto controllo. L'autore reale attribuisce il successo coniugale della coppia all'eredità della defunta regina.